Ben trovati con l'informazione a cura di Meteocalabria.net. La nostra regione continua ad essere interessata da una notevole canicola in grado di apportare tempo stabile e temperature molto elevate. Nei prossimi due giorni ci attendiamo il picco di questa ondata di caldo. Giovedì 30. Cielo generalmente sereno per tutta la giornata salvo locali foschi e lungo i litorali tirrenici. Venti deboli dai quadranti occidentali sul tirreno di direzione variabile sulle ioniche. Mari calmi e temperature molto calde con picchi localmente anche di poco superiore ai 40 gradi nelle pianure dell'Alta Calabria. Caldo rovente per venerdì 31 luglio. Attesa solo un po' di nuvolosità pomeridiana sul Pollino dove non ci sentiamo di escludere locali e temporanei fenomeni. Colonnia di mercurio sempre molto alta, possibili valori diurni compresi fra 40 e 42 gradi su Valle del Crati e dentro terra crotonese. Grazie per l'attenzione. Appuntamento al prossimo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.